Buonasera, una buona vigilia di Natale a tutti voi e a tutti gli emigranti calabresi lontani dalla nostra terra che vorrei ringraziare per l'affetto e per la vicinanza che hanno avuto nei miei confronti per questa guida raccontata che sta andando e sta girando per il mondo. Di questo sono felice sia da calabrese che da autore. Volevo rivolgere i migliori auguri a voi e a tutte le vostre famiglie per trascorrere un Santo Natale in pace e serenità e ricordandovi che è una riflessione doverosa visto che è un Santo Natale dove dominano le guerre in un giorno di pace e di nascita del nostro Signore dominano le guerre nel mondo specialmente nella terra santa dove il bambinello è nato e oggi tanti bambinelli vengono trugidati, questo deve farci pensare. Un buon Natale a tutti voi con la giusta riflessione e con l'unione della famiglia che dovrà dominare su tutto. Una buona serata, una buona vigilia e un buon Santo Natale. Un abbraccio a tutti, grazie ancora.